Alessandro Basciano e Sofico Degoni hanno scelto di allargare la loro famiglia. I Basciagoni hanno infatti deciso di adottare una tenera cagnolina di nome BB. Il post social che vede la coppia in compagnia del cucciolo a quattro zampe ha raggiunto numerose visualizzazioni. Pierpaolo e Giulia, i prelemi, sono stati tra i primi a mettere like al post. Presto i Basciagoni convoleranno a nozze. La proposta di Alessandro Basciano a Sofico Degoni è arrivata in occasione della mostra del cinema di Venezia. I due ex Gieffini continuano a far sognare i loro numerosissimi fan. Per il momento è tutto gentili ascoltatori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sul mondo del gossip. Ciao ciao dalle news!